Buongiorno fiorellini, oggi mi sono svegliata con dei raggi di sole dorati fuori dalla finestra No, non c'è nulla di così poetico L'unica cosa poetica la mattina è il mio amato porridge Che più volte mi avete chiesto come faccio Quindi oggi ve lo mostrerò Questi sono gli ingredienti necessari Fiocchi d'avena, questi li ho presi alla Lidl Cacao amaro in polvere Latte di riso e cocco, questo penso sia l'ingrediente segreto che lo rende proprio così speciale Un po' di acqua Cioccolato fondente E un frutto, in questo caso arancia Vado a pesare circa 35 grammi di fiocchi d'avena Che metto subito sul fuoco a tostare Ci aggiungo poi circa mezzo cucchiaio di cacao amaro e mescolo A questo punto aggiungiamo anche le parti liquide, ovvero il latte di riso e cocco e l'acqua Circa mezzo bicchiere ciascuno Ti amo porridge, sei buonissimo A questo punto bisogna solo aspettare che il composto si rapprenda mescolando di tanto in tanto Ci vogliono letteralmente 3 minuti Questa è la consistenza finale perché a me piace abbastanza solido Vado a mettere il mio porridge in una ciotolina e poi ci aggiungo l'arancia e il cioccolato fondente a pezzettini È arrivato il momento più soddisfacente Parliamone perché il porridge è ancora caldo quindi il cioccolato si scioglie tutto E non ci resta altro che mangiare Buon appetito!